La città di Canicattì e tutti i canicattinessi stanno dimostrando anche in questa occasione di grande emergenza nazionale che ha ripercussioni a livello locale di essere uniti. Insieme si può riuscire a superare ogni difficoltà, lo spirito di collaborazione, tacere quando è necessario tacere, affidarsi a quelle fonti di informazioni sicure che prima di dare una notizia la verificano e stare sereni, restando a casa e limitando al massimo ogni uscita solo per quelle esigenze o per i casi previsti dal decreto del Consiglio dei Ministri. Ieri sera c'è stata un'altra grande mobilitazione a Canicattì, un massiccio intervento di sanificazione che il Comune ha effettuato con la collaborazione di autobottisti e di agricoltori che hanno messo a disposizione anche i loro mezzi, in questo caso gli atomizzatori che secondo quanto dichiarato dagli stessi dall'assessore Palermo erano stati a loro volta puliti e sterilizzati visto che generalmente spruzzano altro tipo di materiale per un massiccio intervento di disinfestazione della città. Un team di lavoro straordinario che ha unito le forze del pubblico e del privato con la gente a seguire in ogni dettaglio l'intervento. Alle 18 in punto il team work si è riunito in piazza San Diego e da lì i mezzi hanno iniziato l'intervento per tutta la città. I canicattinesi hanno raccolto l'invito dell'assessore Palermo di non stendere i panni fuori ed evitare di far restare all'aperto i propri animali. Tutto è proceduto al meglio, un gran lavoro che è durato parecchie ore. Ringrazio gli operatori dei mezzi per l'impegno profuso, dice l'assessore all'igiene Umberto Palermo. Ringrazio gli agricoltori per i mezzi che hanno messo a disposizione per fare la sanificazione. Ringrazio gli autobottisti tutti per la loro disponibilità. Senza di voi le diverse sanificazioni non si sarebbero state effettuate. A presto per stare insieme vivendo un altro momento ben diverso da questo. All'assessore Palermo ha fatto eco anche il sindaco di Canicattiettole di Ventura che ha ringraziato tutti. L'emergenza ancora non è rientrata ed oggi più che mai è importante restare a casa per evitare il contagio.